Quindi Henry Ford, un uomo da 199 miliardi di dollari, dice che bisogna collaborare con gli altri, bisogna dare fiducia agli altri, che tutto da soli non si può fare. Tra l'altro, dovete sapere, siccome questo è vero e non è vero a caso, che la capacità di collaborazione è un'abilità molto ricercata dai recruiters, cioè dalle persone che trovano forza lavoro, lavoratori che assumono le persone. Ok? È quella che viene definita una soft skills, ok? Cioè un'abilità collegata alla sfera cognitiva, ok? E dei rapporti interpersonali e non un'abilità prettamente tecnica. Si chiamano soft skills, ok? Mi insegno una cosa nuova. Soft skills, cioè capacità leggere, ok? Quindi non che sono collegate alla sfera cognitiva e alla capacità di interagire con le altre persone e non alle mere capacità tecniche. Ed è una delle cose più ricercate, perché quando tu hai persone che sono in grado di collaborare tra loro, hai, diciamo, una somma di abilità, ok? Invece, quello che sento dire nel giardinaggio, sempre, dalla maggior parte degli artigiani, ma mediamente da tutti gli italiani, no, che fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, chi fa da sé fa per tre, sì, ma se io assumo qualcuno, poi lo devo controllare perché non mi fido, devo rifare tutti i lavori suoi, tutta questa roba qui che non vi porterà da nessuna parte. Il tema di oggi non è collegato alle assunzioni, perché in un periodo come questo, che sicuramente è un periodo ottimo per il giardinaggio, ma capirete come siamo in un periodo, no, che dire è stabile, è poco, no? Quindi, siamo in un periodo che, oltre all'instabilità generale, non vi voglio nemmeno fare, non voglio nemmeno nominare i temi che ci rendono, diciamo, instabili, ok? Viviamo anche in un periodo nel quale, diciamo, è anche difficile trovare delle persone da assumere, ok? E sicuramente la collaborazione tra aziende, la collaborazione tra aziende, ragazzi, è l'unica scelta possibile per crescere rapidamente nel vostro settore, ok? Perché prima di raggiungere la solidità economica, ok? Quindi la disponibilità alle spalle, le cosiddette spalle larghe che vi permettano di mettere in piedi una cazzo di azienda vera, ok? Perché voi dovete capire che avete una partita IVA, in quanto possessori di una partita IVA, il giorno che siete andati all'agenzia delle entrate, che avete preso il cazzo di numerino, vi siete seduti insieme ai vecchi, insieme a tutta la gente che deve andare a chiedere informazioni per andare a aprire la vostra partita IVA, quando vi hanno dato quel numerino, vi hanno detto, tra parentesi, che vi hanno consegnato in mano un'azienda, che è un'azienda, non è di giardinaggio, non è le motoseghe, non è il furgone con le pinze, con quattro pinze, non è i soffiatori biturbo per far volare anche gli alberi dalle proprietà dei vostri giardini, dei vostri clienti, ok? Un'azienda non è quella roba lì, un'azienda è una struttura organizzata con la finalità di essere profittevole, a tal punto che il vostro stipendio non deve essere come quello se faceste il dipendente, il vostro stipendio deve essere molto maggiore rispetto al fatto che voi potreste essere impiegati, in un'ottima azienda di giardinaggio, come direttori dei lavori, come uomo di fiducia del capo, gente che prende 2000, 2005, anche 3000 euro al mese, ok? Siccome il 90% dei giardinieri in Italia non arriva a prendere queste cifre qua, vuol dire che voi state facendo, state percorrendo una strada sbagliata, ok? Una strada insensata, insensata, ok? Le cose più grandi nella storia della notte, dei tempi, cioè non sono state create da una sola persona, non sono state portate avanti da una sola persona, ma sono nate da quelle che viene definita un'unione di cervelli, ok? E il fatto di apprezzare degli aiuti sia fisici che intellettuali torna a rientrare nella questione della capacità di collaborare, che è, diciamo, una delle doti non prettamente tecniche per il lavoro che stiamo svolgendo, più apprezzate dalle persone che ingaggiano altre persone. Vengono preferite persone meno brave tecnicamente, ma con elevata capacità di collaborazione, rispetto a persone più brave tecnicamente. La vostra evoluzione.